ma quanta cazzo lì gente c'è cazzo sono e ma sono 15 persone adesso a terra? ci sono due montagne cazzo è un po' più grove oh passi è caduto eh ho visto questo potrebbe essere un problema eccolo lì dietro lì tu è tre lì è sceso è sceso altra gente sotto una terra buono una terra se riesci a fare il giro io mi nascondo e mi rianimi e non ho munizioni cazzo è solo il po' eh fai il giro nascosto dato che puoi teletrasportarti bravissimo con il tempo hai munizioni verdi? no cazzo arrivano? sentit contro minuto guardare minuto mais non no tutto lì 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 cazzo lì 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 Sì, sì block, sì cazzo. Cosa abbiamo fatto sta partita? E in mezzo c'è quello che è morto. Mamma mia.